benvenuti su un altro incontro di bin sapiens grazie francesco per la tua disponibilità grazie se il primo che intervisto diciamo con cui dialogo sul tema specifico psicoterapie e francesco gazzillo suggerisco questo libro che è uscito da qualche anno che in qualche modo è forse la migliore introduzione italiana che c'è all'approccio che lui rappresenta in italia e se sei d'accordo inizierei visto che il tempo stringe con la prima domanda ok poi comunque un po di le tue bibliografie la metterò in fondo poi per iscritto sotto il video ok allora ci puoi introdurre le caratteristiche specifiche del tuo modo di lavorare come psicoterapeuta e dei tuoi modelli di riferimento sì allora i miei modelli di riferimento sono in larghissima parte modelli psicoanalitici la mia formazione è stata nella tradizione di freud melanie klein e bion poi nel corso del tempo mi sono avvicinato più ad autori come winnicott fairburn e per certi versi coat alla teoria dell'attaccamento e all'infant research e come dire infine sono arrivato al modello con cui mi sento più a casa e che mi convince di più che è la control master theory inevitabilmente credo che il mio modo di lavorare risenta di tutte queste tradizioni così come risente del fatto che oltre a lavorare come clinico io mi occupo di ricerca di ricerca in particolare sulla personalità e di ricerca empiriche in psicoterapia se dovessi sintetizzare nel modo più preciso quali sono i punti principali del mio modo di intendere la psicoterapia direi che secondo me la psicoterapia è fondamentalmente la ricerca da parte del paziente è una ricerca attiva per quanto in gran parte inconscia di esperienze emotive correttive cioè di esperienze reali e in gran parte relazionali che disconfermino una serie di paure che i pazienti hanno sviluppato nel corso della loro vita e quindi secondo me i compiti principali dello psicoterapeuta sono capire cosa voglia un paziente capire perché quelle cose che desiderano non è riuscito a ottenerlo a ottenerle da solo fino a quel momento capire da dove nascano questi ostacoli in termi che gli hanno impedito fino a quel momento di ottenere le cose che desidera quindi molto importante anche l'indagine della storia in particolare relazionale dei pazienti e tentare di offrire ai pazienti una un'atmosfera terapeutica una relazione terapeutica e magari anche degli strumenti che gli permettano di ottenere quello che cercano ok quindi c'è la centralità se ho capito di quelle che voi chiamate credenze un po come i moi di bolbing forse non lo so gli schemi della schema terapia e tutti i complessi di jung cioè questi sì complessivamente credo di sì cioè io credo che in virtù dell'incontro fra il proprio temperamento e l'insieme delle esperienze che una persona fa da quando nasce fino in particolare adolescenza anche se è possibile che ci siano anche esperienze adulte come dire che diventino fattori psicopatologici comunque le persone sviluppano una serie di aspettative rispetto al mondo rispetto agli altri rispetto a se stessi e alcune di queste aspettative li fanno vivere come pericoloso il raggiungimento di alcuni loro obiettivi questa struttura cognitiva affettiva e somatica che associa il tentativo di perseguire un obiettivo a un pericolo per sé per gli altri importanti per una relazione importante nel corso del tempo è stata concettualizzata in vari modi se vogliamo andare proprio come dire agli albori Freud parlava di transfert come quell'insieme di cliché che orientano la vita relazionale della persona si interessava di qualcosa di simile quando parlava di complessi anche se qui parliamo di come i complessi si manifestano in un contesto relazionale poi in tempi più recenti ci sono queste idee relative agli schemi schemi relazionali schemi relazionali disadattivi che poi danno vita quando esteriorizzate nelle relazioni a dei cicli interpersonali perché inevitabilmente si involgono anche l'altro nel modello che utilizzo io parliamo di credenze patogene e schemi patogeni volvi si è occupato diciamo di una classe particolare di queste strutture col concetto di modelli operativi interni anche se lui li ha studiati essenzialmente in relazione all'attivarsi del sistema dell'attaccamento quindi certo più specifico e quindi per concludere per aiutare un po capire no quindi questo modello si inserisce all'interno della tradizione analitica quindi lo strumento principale non solo come variabile a specifica trasversale a tutti gli approcci psicoterapeutici ma proprio con una sensibilità rinnovata anche a luce delle conoscenze attuali di quello che avviene nel transfer e nel conto transfer e come emergono consciamente o inconsciamente queste credenze il tuo approccio è di lavorare di disconfermare quegli schemi disadattivi facendo vivere un'esperienza relazionale emotiva ok e conta che come dire a rigore è così questo non vuol dire che non possano essere utilizzate tecniche specifiche se lavori nell'ottica oltre al master di theory la cosa diversa è che scegliere se utilizzare quando utilizzare come utilizzare o se non utilizzare una tecnica è una scelta che tu fai in funzione della comprensione che hai sviluppato inizio terapia del paziente del suo piano del suo piano per stare meglio della comprensione di quello che sta succedendo in quel momento della terapia delle cose su cui sta lavorando in quel momento della terapia e della comprensione di come sta vivendo il rapporto con te come potrebbe vivere la proposta di utilizzare o non utilizzare una tecnica cioè vista da un altro lato quando un terapeuta propone un paziente di utilizzare una tecnica ma possiamo anche parlare di tecniche come dire psicoanalitiche come l'utilizzo dell'interpretazione oppure possiamo parlare di tecniche cognitivo comportamentali ultimamente va molto di moda l'immagine di cui della scripting insomma qualsiasi tipo di tecnica la proposta di questa tecnica non è nentra è un evento che si verifica nel contesto di una relazione che il paziente vive in un modo specifico in funzione come è fatto in fu di come è fatto in funzione della sua storia in funzione di quello con cui sta fra virgolette lottando in quel momento e quindi l'efficacia o la non efficacia della tecnica a mio parere dipende in larghissima parte da come il paziente fa esperienza consciamento inconsciamente del fatto gli stai proponendo di fare qualcosa e di quello che gli stai proponendo di fare quindi non è un problema di utilizzare o non utilizzare le tecniche il problema diventa fare le scelte che per quel paziente in quel momento vengono vissuto come disconferme di queste credenze patogeni di queste aspettative negativi chiarissimo all'interno della relazione quindi di anche come tu costruisci insieme al paziente un certo discorso ok perfetto dai allora passiamo alla seconda domanda quali sono tuo parere i più interessanti e promettenti sviluppi nella teoria e nella prassi della psicoterapia contemporanea quindi modo trasversale allora da questo punto di vista io credo che gli sviluppi più interessanti vengano in particolare da due mondi che sono un po al confine delle grandi scuole da una parte io credo che degli sviluppi interessanti vengano dal mondo della ricerca empirica sulla psicoterapia e in particolare mi riferisco a due cose se dobbiamo ragionare un po per grandi linee nel corso del novecento le tradizioni più importanti psicoterapeutiche sono state da una parte la tradizione psicodinamica mettendo in essa la psicoanalisi freudiana junghiana adleriana molte teorie ad approccio sistemico gli approcci umanistico esistenziali quindi prendendole in senso molto ampio e dall'altra la tradizione cognitivo comportamentale 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 prima cognitiva poi cognitivo comportamentale dopo queste due tradizioni si sono distinte per molti aspetti da un certo momento in poi come dire fra le distinzioni più importanti c'era il fatto che da una parte il mondo psicoanalitico psicodinamico ha dato relativamente poca importanza alla specificità delle diverse categorie diagnostiche questo è curioso se ci pensi perché fin dall'inizio freud è uno che proponeva distinzioni diagnostiche le nebrosi di transfert le nebrosi attuali le nebrosi narcisistiche le psicosi la melanconia che aveva un po' una posizione a sé e poi anche tutto lo studio della personalità se pensi all'analisi del carattere di Reich come dire ha avuto contributi fondamentali dal punto di vista psicoanalitico però in termini di implicazioni cliniche questo veniva tradotto con l'idea che alcuni pazienti quelli genericamente neurotici potevano fare una psicoanalisi in senso stretto i pazienti che non più entravano in quelle categorie potevano fare delle psicoanalisi delle psicoterapie psicoanaliticamente informate ma via via più diluite psicoterapia psicoanalitica psicoterapia di sostegno e poi c'erano i pazienti che non erano trattabili di fatto ripeto tagliando un po le cose con l'accetta è come se la vera distinzione fosse fra i pazienti psicoanalizzabili e i pazienti che non lo erano nel mondo cognitivo comportamentale si è seguito un trend diverso e cioè almeno a partire dalla fine degli anni 60 si sono iniziati a inventare dei protocolli terapeutici relativamente standardizzati che fossero specifici per il trattamento di disturbi che poi venivano identificati e diagnosticati con i manuali internazionali tutta questa impostazione ha dato vita a una grossa mole di ricerche che almeno a partire dagli anni 80 ci hanno dato alcuni dati abbastanza consolidati e cioè che la psicoterapia efficace fare una psicoterapia che non farla anziché non farla determina un miglioramento nel 70 80 per cento delle persone quindi l'effetto size cioè la dimensione dell'effetto è piuttosto ampia una delle cose che si dice che classicamente che più più è più efficace dell'aspirina prendendo l'aspirina un po come gold standard delle certe l'altro dato rilevante è stato che sostanzialmente se tu paragoni due tipi di psicoterapia pensati specificamente per un certo disturbo ma differenti per l'orientamento teorico venne alla base quello che vedi è che nessuno dei due tipi è più efficace dell'altro questo si chiama il paradosso di dodo cioè le psicoterapie per disturbi specifici rispettate certe condizioni sono ugualmente efficaci indipendentemente dall'orientamento teorico che le supporta questo secondo dato ovviamente poi ha spinto chi si occupa di queste problematiche a cercare di capire come leggere allora l'efficacia della psicoterapia se non è la teoria che ne ha la base quindi le tecniche che discendono dalla teoria il fattore centrale e ovviamente l'attenzione si è rivolta prevalentemente alla dimensione relazione terapeutica cioè alla presenza di una persona che ha un problema uno scoraggiamento una difficoltà e di un'altra che si rivolge a un'altra persona che si suppone abbia delle competenze delle conoscenze necessarie per aiutarlo e che gli fornisce una spiegazione dei problemi che ha un setting per affrontare questi problemi e una serie di procedure che collegano i problemi con la mediazione della teoria alla loro possibile soluzione in questo ambito ovviamente sono state approfondite in particolare alcune dimensioni l'alleanza terapeutica intesa come accordo su obiettivi e compiti e come qualità della relazione fra terapeuta e paziente la relazione reale fra terapeuta e paziente la capacità di rinforzare delle aspettative positive nel paziente la capacità del terapeuta di farsi percepire come empatico dal paziente eccetera eccetera ultimamente diciamo quello che sta succedendo è che da una parte si stanno mettendo in discussione le categorie diagnostiche tradizionali ok c'è chi va verso un approccio transdiagnostico cioè fa un discorso del tipo più che pensare a trattamenti per disturbi specifici cerchiamo di identificare quelli che sono le dimensioni psicopatologiche che sottendono meglio la sofferenza della persona che ha regolazione emotiva le capacità metacognitive vissuti di vergogna di colpa di ansia di depressione eccetera eccetera e chi invece si sta muovendo e queste sono cose molto recenti verso un'idea ancora più precisa che io condivido di più e cioè l'idea di costruire trattamenti che non sono specifici per disturbo e neanche che sono diciamo assemblati a partire dalle dimensioni psicopatologiche più rilevanti in un certo paziente che un altro ma costruire trattamenti che sono specificamente tagliati per la persona che è di fronte cioè la psicoterapia personalizzata che in termini pratici significa passare da una psicoterapia basata su diagnosi a una psicoterapia basata sulla formulazione del caso specifico del paciente questo implica l'aduzione di procedure di non tanto di conduzione del colloquio ma di ritraduzione delle informazioni che emergono dai primi colloqui che siano affidabili cioè procedure che ti permettono di formulare il caso in modo tale che se quel paziente lo vedi te e lo vedo io oppure se io te e altre dieci persone abbiamo lo stesso materiale dei colloqui del paziente arriviamo alla stessa conclusione procedure che quindi siano affidabili e procedure che abbiano dati che ti dimostrano come seguire quel tipo di formulazione che hai elaborato favorisca il miglioramento del paziente e alcune di queste procedure ci sono anche come dire empiricamente verificate questo passaggio implica anche e quindi da una parte psicoterapie personalizzate o approcci caso specifici dall'altra e per implicazione questo vuol dire anche che il concetto un po centrale del lavoro terapeutico è quello o qualcosa di simile che oggi viene chiamato come responsività o responsività ottimale intesa come la capacità del terapeuta di capire cose opportune cose non è opportuno fare in quel momento con quel paziente ancora una volta la sfida diventa costruire procedure di valutazione della responsività di un terapeuta che siano affidabili e che si dimostri correranno con l'outcome cioè diventa la grande sfida di costruire implementare categorie concettuali che permettano un clinico di farsi un'idea sufficientemente fondata di cosa devo fare adesso con questa persona che ha questo profilo specifico visto da un'altra prospettiva come dire per provare a dire una cosa un po più immediatamente comprensibile proviamo a immaginare tre pazienti che condividono forse quella che è la diagnosi più diffusa oggi che il problema di salute mentale con maggiori implicazioni socioeconomiche la depressione e immaginiamo non so che abbiamo un paziente che presenta un quadro di depressione maggiore in conseguenza della fine di una storia d'amore importante il paziente che presenta un quadro ugualmente di depressione maggiore perché arriva a 30 anni e non sa cosa fare della sua vita non ha capito cosa gli interessa cosa gli piace dove vuole arrivare è un terzo paziente facciamo sempre a 30 anni che presenta un quadro di depressione maggiore perché sempre vissuto con la famiglia e adesso i genitori sono morti se proviamo a calarci nelle storie di queste tre pazienti diventa abbastanza ridicola l'idea che queste tre persone possano essere aiutate esattamente dallo stesso tipo di trattamento chiaro perché è molto diversa la depressione di chi sta male perché ha perso quello che pensava fosse l'amore della sua vita dalla depressione di chi sta male perché capisce che la sua vita non c'è evidentemente non ha un senso che ancora più la depressione di chi ha vissuto come orizzonte esistenziale la famiglia di origine persa questa famiglia di origine sente smarrito e questo soltanto per parlare di un elemento del quadro psicopatologico del paziente perché poi chiunque lavora sa che la stragrande maggioranza di pazienti non rispettano i criteri per una diagnosi anzi o non rispettano i criteri per nessuna diagnosi oppure presentano caratteristiche di due dieci disturbi diversi e quindi l'idea di lavorare per disturbo implica che tu fai fra virgolette affetto un paziente prescindi dal fatto che è un essere umano completo prescindi dalla sua storia e dici beh quello che vedo può essere ricondotto grossomodo due tre quattro categorie e ora imposto il primo trattamento durante queste categorie il seconda per il secondo il terzo trattamento per la terza e poi mi devo chiedere con quale iniziare perché questo è il livello di ragionamento di alcuni così come ugualmente paradossale pensare che tu questi tre pazienti li tratti tutti allo stesso modo e li tratti come tratteresti uno che ti arriva perché c'è una fobia un altro che ti arriva con un disturbo della personalità che è l'idea che la mia terapia funziona per tutti in sintesi direi psicoterapie personalizzate e il concetto di responsabile di responsività ottimale molto interessante mettere al centro non tanto solo il paziente che c'è in certi ambiti rivoluzionario questo ma la specificità e l'unicità che poi proprio anche il senso del uno dei sensi del lavoro terapeutico è proprio quello di individuarsi no cioè è molto molto interessante perché anche vicino a una visione jungiana che è una delle mie matrici non perché deve aderire a me perché lo ritengo molto valido in qualche modo sono totalmente accordonte direi anche di più che l'idea jungiana di individuazione trova eco in concetti simili di molti altri approcci in fondo la tendenza all'autorealizzazione che di cui parlava rogers o care norme assolutamente a dico ut che dai due anni un po ognuno di noi è caratterizzato da un programma nucleare e che una vita vissuta come piena gioiosa armonica è una vita è la vita di chi prova a realizzarlo nel corso della sua esistenza questo programma nucleare l'idea della control master di che ogni paziente viene con un piano un piano che ha obiettivi ostacoli raggiungendo questo obiettivo l'origine di questi ostacoli e ciò di cui ha bisogno per liberarsi di questi ostacoli cioè quest'idea che poi inizia a diffondersi molto a cavallo fra gli anni trenta agli anni cinquanta del novecento secondo me è una guida importante per per un terapeuta e finirei questo rapido e sommare excursus con una una cosa che diceva bion che che è un importantissimo analista del novecento nato in india formatosi con la clan e poi ha sviluppato delle idee sue che a un certo punto in un certo libro scrive che la psicoanalisi è interessata a conoscere qualcosa che non può essere modificato che che è la realtà o se possiamo dire il vero se di un paziente cioè possiamo anche pensare alla psicoterapia come un aiuto a diventare pienamente se stessi liberando cose che ti ostacolano in questo sì ed è bellissimo perché non è soltanto la convergenza è anche bello di occuparci come ricercatore come clinici della mente umana no che c'è questo a sfida epistemologica del oggetto conosciuto e conoscitore che vengono a coincidere ma quindi non è soltanto un discorso di convergenza epistemologica ma di una convergenza di un tema epistemologico cioè di come scientificamente creare conoscenza valida quindi in senso ristretto e ma che viene a coincidere con la salute il senso poi dell'individuo vissuto incarnato e questo è molto interessante non c'è il tempo di svilupparlo magari lo svilupperemo ad hoc in qualche modo ha già risposto in parte la terza domanda immagino che nello stato dell'arte attuale della psicoterapia quali sono i principali limiti limiti conoscitivi ed intervento quali sfide la mente umana e la psicopatologia ci pone ancora oggi tantissime rischio di essere un po transciante sì io credo che noi dei funzionamenti psicotici abbiamo capito poco o nulla e che la possibilità di incidere modificando radicalmente un funzionamento psicotico è lontanissimo ora c'è tutto un trend di studi e interventi fondato sul concetto di recovery che ti dice che a distanza di tempo sono moltissimi pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di psicosi che non soddisfano più i criteri per ricevere quella di agnosi per la mia esperienza per quanto limitata nel campo penso che anche qui avesse abbastanza ragione biano quando un punto di ironia diceva che il massimo che aveva ottenuto una terapia di uno psicotico e trasformare uno psicotico matto in uno psicotico che matto non era penso che rispetto a molte patologie siamo decisamente indietro a volte in termini di comprensione più spesso in termini di possibilità di incidere penso alcuni gravi disturbi della personalità narcisistici o borderline tralasciando ovviamente quelli che poi sono come dire dubbio che siano veri e propri disturbi di personalità e non forme subliniche di psicosi come disturbi schizotipici penso a delle forme gravi di depressione ultraricorrenti che nonostante farmacoterapia e psicoterapia continuano a presentarsi ogni volta identiche a se stesse quindi diciamo la psicoterapia è efficace è efficace per moltissime persone le aiuta a stare meglio o andare in remissione sintomatica completa ma penso che l'efficacia è ancora limitata in generale per esempio sappiamo che soprattutto se le terapie sono brevi ma non solo i tassi di ricadute a due anni dalla fine della terapia sono altissimi le cose vanno un po meglio se le terapie durano di più ma i tassi di ricadute sono molto alti sappiamo anche che ci sono pazienti che tentano svariati tipi di psicoterapia spesso anche con sostegno farmacologico e non guariscono quindi come dire su questo ti ripeto a rischio di essere un po' transient credo che abbiamo strumenti concettuali operativi utili ma dobbiamo continuare a cercare a cercare in maniera anche molto interdisciplinare quindi servendoci degli apporti tanto della psicologia quanto della psichiatria quanto perché no anche di contributi sociologici antropologici e chi oggi racconta di avere l'approccio che ti risolve tutta la maggior parte dei problemi di tutti i pazienti o di tutti i pazienti con un certo disturbo vende fumo su questo permettimi un minuto di di polemica per quanto ancora abbastanza giovane come dire sono una ventina d'anni che lavoro e da più tempo ovviamente studio e potrei fare la storia dei movimenti degli approcci delle idee che in questi anni sono emersi presentandosi come risolutori di qualsiasi tipo di problematiche in genere nascono come approcci specifici per un problema specifico poi iniziano a essere utilizzati per i problemi di mitrofi fino poi a diventare il modello per tutti i problemi e ne abbiamo da quelli psicoanalitici o di matrice psicoanalitica come approccio basato sulla mentalizzazione a quelli di matrice cognitivo comportamentale o affini pensiamo non so all'emdr ultimamente l'immagine with the scripting o il recupero di tecniche di matrice gestaltica non so il lavoro e poi quello che tu vedi che passano una decina d'anni 15 anni si produce ricerche e vedi che mediamente quello che viene fuori è che questi approcci sono buoni come gli altri approcci che già si utilizzavano per quel disturbo e non ci sono differenze significative in termini di efficacia magari una di queste cose ottima per un paziente ma non per un altro è un'altra è ottima per un certo paziente in un certo momento in una certa relazione terapeutica ma non per un altro quindi come dire un grande richiamo all'umiltà e alla collaborazione in genere chi parte vuole dimostrare il suo approccio migliore degli altri con il tempo e studi ben fatti e replicati da gruppi di ricerca diversi diventa semplicemente uno bravo come gli altri molto interessante in qualche modo hai fatto da ponte alla domanda successiva perché non è scontato tra noi colleghi anche l'apertura no ad approcci diversi cioè da quello che dici si capisce che abbiamo a che fare con un oggetto non complesso ma super complesso quindi chiudersi all'interno di un'unica prospettiva è veramente limitante infatti la quarta domanda è questa che opinione ti sei fatto rispetto alla necessità di un dialogo e integrazione tra approcci psicoterapeutici diversi io penso che il dialogo è assolutamente imprescindibile uno che si è occupato tanto tanto e bene secondo me è goldfield il dialogo è imprescindibile perché tu scopri che questo lo vediamo un po all'inizio la nostra chiacchierata poi nel corso del tempo approcci che nascono come diversissimi in realtà stanno parlando delle stesse cose usando termini diversi e quindi potrebbero essere molto meno diversissimi di come si presenta appunto parlavano del transfert più dei cicli interpersonali più che il testing i schemi interpersonali maladattivi o rimago di cui parlavano i primi analisti il ccrt l'integrazione io sono favorevole all'integrazione con una specifica cioè io penso che l'integrazione debba essere fatta a partire da una prospettiva che il clinico adotta come prospettiva di fondo e che almeno si spera sia una prospettiva che abbia fondamenta scientifiche empiriche solide adottare una prospettiva inevitabilmente significa che alcune cose le puoi prendere perché condividono gli assunti di quella prospettiva altre non le puoi prendere perché partono da assunti diversi oppure le puoi prendere ma modificandone il senso e quindi a partire da una prospettiva specifica che poi ogni clinico adotta che spero abbia solide fondamenta scientifiche io credo che l'integrazione possa essere fatta mantenendo una coerenza di fondo di fondo con la prospettiva che si adotta perché non solo per evitare di fare confusione ma anche perché se tu parti da una prospettiva specifica utilizzi strumenti concettuali operativi anche di tradizioni diverse nel contesto di quella prospettiva in accordo con quella prospettiva se ti accorgi che le cose non funzionano hai la possibilità di riflettere su perché non funzionano e questo ti può portare a scartare alcuni di questi strumenti concettuali operativi o anche a modificare la prospettiva di partenza se lo fai in assenza di questo diventa un po' un'operazione come dire artigianale che rischia facilmente di essere confusa cioè non sei più non è più modo di orientarti su cosa ha funzionato e perché cosa non ha funzionato e quindi cosa devo cambiare chiaro sì sì è fondamentale il razionale sottostante quello che da che per carità il più possibile fondato scientificamente in un sapere che in continuo di divenire come dici tu e come dicevano anche tanti altri importanti autori abbiamo solo appena iniziato a capire cos'è la psiche umana il rapporto col cervello col corpo con le relazioni con la cultura tutto quanto il fondamentale è il razionale cioè è il non fare l'artigiano vabbè metto un po di questo metto un po a quell'altro nel contempo è fondamentale non chiudersi in se stessi e dopo trent'anni continuare a rileggere fra di un vinico scendito beh che come se fossero dei profeti capito da erano dei grandi uomini donne da cui abbiamo sempre da imparare molto importante anche andare a studiare autori di un tempo per nostra reinventar la ruota ma fondamentalmente poi qual è il razionale cioè qual è falsificabile con tutta la cautela del caso il modello di psicopatologie psicopatologia di psicopatogenesi di quali sono i meccanismi terapeutici cosa avviene nella relazione allora lì c'è un dialogo che diventa integrazione altrimenti ha affastellamento artigianale assolutamente su questo guarda veloce la prima non so se questa è un'esperienza fatto anche tu io sicuramente sì io penso che un grandissimo antidoto alla chiusura nel proprio mondo il lavoro con i pazienti di difficoltà reali del lavoro con i pazienti i pazienti che migliorano in parte o quelli che non migliorano a patto che l'operazione mentale non diventa automaticamente la teoria buona e il paziente no ecco come dire confrontarti con le difficoltà al lavoro clinico quotidiano se lo fai davvero in modo onesto ti porta a vedere chiaramente i limiti del tuo approccio di quello che stai facendo e vedere anche altro e poi rispetto al rapporto con i grandi maestri tu giustamente ci davi grandi maestri del nostro campo ma io ti direi anche ma perché non buddha o platone o gli stoici cioè io penso che la cultura nel nostro lavoro serva per avere prospettive diverse modelli diversi strumenti concettuali oltre cooperativi diversi e quello che dicevi sulla reinventare la ruta è molto vero se noi vediamo svariati movimenti del mondo psicoterapeutico che si sono fatti avanti agli anni ottanti in poi se la maggior parte di questi ha ritirato fuori cose che utilizzava jeanet prima di il primo freud prima di arrivare alla psicoanalisi che va benissimo il fatto è che è fatto in totale ignoranza di quelli che venivano prima molti per un esempio può essere anche la sensorimotor psicoterapia che va tanto di moda moltissime cose sensorimotor sono meditazione buddista quindi varie centinaia di anni prima di cristo e cose proposte da reich e lowell bioenergetico chi fa questa questi chi utilizza questi strumenti non ha idea del fatto che quelle sono cose come dire che affondano le loro radici sono identiche a tecniche che risalgono a fine ottocento o metà novecento e te le propone come la grandissima novità è fondamentale questa apertura mentale anche a protopsicologie nel dialogo con la dimensione esistenziale filosofica sono assolutamente d'accordo io da tanti anni mi accolte di questo è uno dei miei interessi è stato molto interessante negli ultimi vent'anni vedere da junghiano il recupero di jeanet con molti colleghi unghiani italiani che sono arrivati in ritardo rispetto a quegli finiti come tiotti ecco questa consapevolezza storica è fondamentale insomma ci siamo scelti un oggetto di studio di di lavoro anche prima di tutto su di noi no non può scendere anche il bello che è che è immenso no che è immenso va bene allora un po come le ciliegie mi vengono in mente un sacco di cose ma mi devo contenere se non diventa tre ore allora andiamo con la domanda successiva se si esclude la competenza teorica e tecnica che competenze psicologiche deve sviluppare negli anni un buon psicoterapeuta secondo te ti direi un'autentica curiosità per il modo in cui l'altra persona organizza la sua esperienza mi viene in mente una un'espressione del buddismo zen la mente del principiante cioè non dare mai sconte scontato di capire subito quello che ti sta dicendo l'altra persona perché magari dice una cosa che è uguale a quella che pensi tu ma per un motivo completamente diverso o dice una cosa che a te ti sembra o fa una cosa che ti sembra completamente assurda ma se tu indaghi la sua esperienza soggettiva la sua storia ti sembra quasi ovvio che quella persona possa dire o fare quella cosa quindi grande curiosità e apertura mentale rispetto al modo in cui l'altra persona il tuo paziente organizza la sua esperienza e poi mi verrebbe da dire una parola che usare una parola che è molto abusata che sarebbe l'empatia ma usate in un senso se vuoi molto specifico la capacità che si sviluppa nel tempo di metterti realmente nei panni degli altri né dell'altro e quindi di riuscire a sentire come quella persona sente qualcosa come una con la persona che reagisce emotivamente a qualcosa perché in fondo questi due elementi sono la base per qualsiasi ipotesi teorica tu voglia fare successivamente in forma più astratta per spiegare perché l'evento x quella persona l'ha vissuto nel modo y né reagito nel modo z quindi direi curiosità come apertura e capacità di non dare per scontato il senso di quello che dice l'altro e la capacità di metterti nei panni dell'altro in modo da riuscire a sentire almeno un po come sente ha sentito lui ok e e invece quello che succede dentro di te e che partecipa questo come dire è semplicemente come l'altra faccia della medaglia perché per fare questo tu devi come dire anche qui in mente una metafora aver pulito lo specchio cioè devi conoscerti sufficientemente bene e avere la capacità di metterti un po da parte o quando ascolti o quanto meno in dialogo con l'altro quando ascolti quando provi a capire e quando provi a sentire come sente l'altro l'altro pezzo che è importante e qua invece mi non ha battuta prima di dire o fare qualcosa in terapia tu devi essere assolutamente a contatto con quello che stai pensando provando e ti verrebbe da fare o da dire te ma prima di farlo dirlo devi chiederti se in questo momento faccio di questa cosa all'altro come arriva e che cosa potrebbe succedere ti devi dire ma sto provando e sentendo questa cosa mi avrebbe da fare questo ma perché a che fare per lo più con me a che fare con quello che si muove dentro l'altro e e poi appunto ma se io faccio dico questa cosa che impatto avrà sull'altro è quello che voglio è una cosa che è meglio che evito e poi magari decidi di farla o non farla e vedi che succede vedi se le ipotesi che costruito avevano senso cioè ti ringrazio per diciamo l'accento che posso su questo io sono totalmente convinto che quando lavori con un paziente il materiale per comprendere quello che succede decidere cosa fare tu lo trovi tanto nella nell'aspetto nel comportamento nelle parole nell'atteggiamento del paziente quanto in tutto quello che succede dentro di te in quel momento e questa è la capacità poi di osservarti conoscerti e metterti un po al lato diciamo e questo credo che sia una delle grandi tradizioni interpretate in modo diverso sviluppate in modo diverso di cui è portatrice la tradizione psicodinamica di cui anche colleghi autori di altre tradizioni in modo diverso hanno saputo integrare e stanno integrando sempre di più c'è la fin fine sono non sono solo due due storie due due corpi due che si incontrano nella terapia ma due coscienze ma sono anche due inconsci no cioè c'è una copartecipazione una costruzione veramente complessa interessante quindi c'è scusa se lo ricito ma fu proprio Jung il primo e poi fu adottato da tutti gli analisti a dire guardate che per fare questo mestiere dobbiamo è imprescindibile fare una terapia un percorso di noi magari anche più di una no anche in fasi diverse della vita e questo non è scontato in tutte le tradizioni terapeutiche questo cioè ci sono alcuni approcci che sono un po più tecnici portatori di alcuni valori che devono essere integrati eh assolutamente però è uno dei mestieri più complessi perché entriamo profondamente in gioco noi anche come vissuto come personalità e tutto quanto io credo che però da questo punto di vista nel nostro ambito che è un ambito estremamente affascinante per certi per sé anche un po buffo se vuoi è andato diciamo da un estremo all'altro e ultimamente sta trovando più equilibrio cioè se tu vedi primissimi analisti ma ti direi abbondantemente fino a Melanie Klein partiva un po' dal presupposto che quello che succedeva dentro il terapeuta si poteva dividere in due cose o era il normale comportamento di un terapeuta che era molto codificato socialmente cioè credo che chiunque legge i casi clinici di Freud e i resoconti sparsi negli scritti di Freud di esperienze cliniche capisce che Freud si rapportava ai pazienti come un medico di famiglia dell'ottocento sì con una dimensione umana personale ovviamente totalmente scontata ma io ricordo nella mia infanzia quando arrivava il medico di famiglia a casa di mia nonna andava a casa si prendeva il caffè parlavano dei farti loro poi il dottore visitava dava le prescrizioni rassicurava e quello è molto evidente quello che non rientrava in questo che già è un universo se ci pensi no perché un universo anche di affetti di storie condivise di umanità di incontro personale era un problema personale dell'analista chiamasi contro transfert la reazione dell'analista al transfert del presente francamente soprattutto negli anni settanta si è arrivati poi all'estremo opposto e ancora oggi sono propaggini per cui tu leggi a volte dei resoconti di sedute in cui è il terapeuta le sue fantasie i suoi desideri la sua immaginazione le sue esperienze le sue sensazioni che occupano il centro anche troppo come dire certo era il centro della terapia non c'è il terapeuta composizioni intermedie che secondo me sono più sensate che sono quelle che ti dicono guarda quello che succede dentro il terapeuta in termini di pensieri emozioni sensazioni e inevitabilmente connesso la tua formazione la tua storia le tue predilezioni il tuo carattere ma tieni conto che quasi sempre ti dice anche qualcosa di quello che sta succedendo col paziente con cui sta lavorando in quel momento e qua possiamo anche come dire costruire dei ponti c'è l'idea che come dire siamo naturalmente portati a sentire quello che sente l'altro a intuire lo stato dell'altro o la le intenzioni dell'altro e allo stesso tempo in quanto esseri umani le motivazioni che si attivano in noi con la mediazione della nostra soggettività ma hanno anche a che fare con le motivazioni che intuiamo nell'altro e quindi c'è un continuo dialogo emotivo cognitivo viscerale somatico fra te e la persona con cui sei in relazione piccola curiosità mia non so quanto possa interessare a chi segue ma quando pensi magari a certi eccessi di messa al centro nella relazione terapeutica dell'analista pensi a autori tipo robert langs quel periodo lì no pensavo esperienze che ho fatto nel corso del mio training in cui ci si riuniva per discutere dei casi e non era raro che gli interventi dei clinici iniziassero con io ho sentito che a me è venuto in mente che ok quindi più empirico sì che l'esperienza di re che suscitava in me era ma potrebbero essere anche fatti due partiamo da quello che ha detto ha fatto il paziente al che io ho sentito che io ho pensato che pensavo alcuni iscritti comparsi anche di recente sull'international journal o seguo analisis in cui tu vedevi che uno scambio clinico di quattro righe aveva un commento di due pagine di queste due pagine uno e tre quarti erano quello che ha sentito pensati era venuto in mente all'analista francamente to marchi interesse un equilibrio da non tenere scontato e da valutare di volta in volta anche questo assolutamente ok ci sono ancora due domande in parte a questa è accennato precedentemente come sta cambiando la psicopatologia che comunque cambia nel tempo con l'evolvere della della cultura della società e quali siano quali sono oggi le psicopatologie più complesse da affrontare allora su questo ti risponderei che sono fondamentalmente in accordo con cose che scriveva coop negli anni settanta e cioè che se prima almeno apparentemente perché è difficile sai che le riflessioni sul cambiamento della psicopatologia sono molto difficili perché perché noi abbiamo descrizioni oggettive di condizioni psicopatologiche a partire probabilmente dall'antica grecia quantomeno almeno ti parlo delle cose che conosco meglio e grossomodo tu riesci facilmente a riconoscere i quadri banalità sconcertante le forme anoressiche o le forme depressive o fenomeni che oggi chiameremmo come psicotici allucinatori e deliranti alcuni di questi fenomeni però in passato non erano considerati psicopatologici quindi c'è anche un'influenza della contestualizzazione culturale nel definire un certo fenomeno psichico esistenziale come patologico o no al contempo ci sono patologie che sembrano emergere o diffondersi molto in certi periodi l'esempio più ovvio che ti posso fare dagli anni trenta in poi soprattutto a partire poi degli anni cinquanta sessanta disturbi borderline le prime descrizioni tu ce l'hai la primissima non mi sbaglio ero di un'analista viennese che era stata in analisi con fraude che signava stern che descrive i primi casi borderline al confine fra nevrosi e psicosi e anche come dire è curiosa la scomparsa di alcuni fenomeni cioè c'è una sostanziale riduzione dei fenomeni delle grandi stereie di fino ottocento ma questa riduzione già la vivi negli anni venti fra ne parlava allora e anche qui quanto di quei fenomeni erano manifestazioni di disagio mediati culturalmente all'attenzione dalla descrizione che si faceva di quei fenomeni al cerco quindi sono discorsi molto difficili in linea generale ti direi tornando account che lui credo che avesse notato qualcosa di vero quando diceva che la psicopatologia per come si presentava fino diciamo grossomodo alla seconda guerra mondiale era una psicopatologia da iper stimolazione cioè le persone crescevano in gran parte in contesti familiari allargati in cui al di là e oltre i genitori c'erano tate camerieri nonne zii spesso si viveva tutti insieme ovviamente con forme diverse secondo della stato socio economico della famiglia e quindi il problema del ragazzo era come come imparare a gestire la manifestazione di alcune emozioni di base a partire appunto alle emozioni più aggressive le emozioni più sensuali il problema sessuale il problema diciamo del valore di sé dell'orgoglio eccetera mentre dal dopo la seconda guerra mondiale in poi diciamo anni 60 70 in poi prevalgono psicopatologie da ipostimolazione cioè quelle forme psicopatologiche in cui i problemi centrali sembrano da un senso alla propria esistenza capire se ti piacciono gli uomini o le donne o tutti e due capire che lavoro vuoi fare che tipo di rapporto intime voglia di vivere con quante persone cioè per usare una metafora prima erano patologie da costrizione oggi sembrano più patologie da completa confusione dispersione da questo punto di vista non so quanto ti possa stupire io trovo interessantissimo un autore come Viktor Frankl secondo me lui aveva visto molto quando diceva che molte forme di sofferenza derivano dall'incapacità di dare alla propria vita un senso che trascendesse la persona stessa che quindi fosse dedicata a una causa a un valore a un'altra persona io penso della dimensione del dare un senso una direzione alla propria esistenza la difficoltà a farlo stia diventando molto centrale con gli estremi di chi si illude di poter essere il centro dell'universo e chi non ha propria idea di chi sia dove si e dove vuole andare un tema interessantissimo io concordo con questa tua visione siamo parlo ovviamente dei dei paesi sviluppati occidentali non ho sufficiente conoscenza vicina o altri abbiamo dopo tutta una serie di conquiste culturali sociali una libertà di cui non siamo educati alla libertà che abbiamo in qualche modo prima la distinzione tra adulto e bambino tra maschio e femmina ma non sto dicendo che giusto sbagliato solo descrivendo la stretta relazione tra autorità e autorevolezza che giustamente poi ma è stata messa in discussione ma apre tutta una serie di complessità no facevano da contenitore tutti questi confini spesso rigidi che poi nel 68 sono stati scardinati ma farsi carico di questa libertà ben venga non è che vogliamo tornare indietro crea un disagio sempre che viene a far dialogare disagio psicologico individuale disagio esistenziale significativo quindi secondo me non è un caso che tu hai citato appunto uno dei padri della della psicologia esistenziale no come victor frank e e questo la butto lì ma se bisogna fare un video dedicato perché la grande rimossa oggi è la morte non è la sessualità o è uno dei riverberi di questo grande paura è il limite no e come ci confrontiamo con il limite no non accettandolo subendolo insomma sto aprendo tante porte però io vorrei aggiungere due cose su questo il punto che sottolineava cout secondo me è molto vero la famiglia la la composizione delle famiglie il mutare della composizione e secondo me e questo magari apre ancora un'altra parentesi però per quanto rischia di essere controcorrente vivere con due genitori fratelli zii nonne governanti è molto diverso dal crescere con due genitori che poi diventano uno diventano di nuovo due o meglio tre perché quell'altro non c'è ancora e poi tornano a essere uno oppure sono solamente uno per sempre ed è impensabile che queste questi fenomeni non abbiano un impatto direi di più un impatto spesso devastante sui pazienti nessuno vuole mettere in discussione come dire l'importanza di poter divorziare io non conosco un paziente che non abbia vissuto come traumatico la separazione il divorzio dei genitori è una cosa che segna che piaccia o no a noi adulti e alla nostra libertà la morte philippa rire storia della morte in occidente la morte a lungo era una presenza quotidiana perché il parente ti moriva a casa perché scendevi e c'era un morto per strada adesso la morte ne fa esperienza tendenzialmente abbastanza avanti cioè tarda infanzia adolescenza per qualcuno e poi la vedi in televisione cosa sia la morte reale spesso lo sai tardi e costruisci mostri su una cosa naturale ti perdi l'esperienza della naturalità del saluto alla persona difunta e dell'elaborazione condivisa della morte non so se a te sia capitato a me è capitato spesso di pazienti che ti raccontavano è morto x e la reazione è o non sono in me parlato oppure l'altro genitore si è depresso ed è sparito per me quindi la capacità di far fronte e di gestire la morte con un evento tragico ma nella normalità dell'esistenza umana è una cosa che sembra difficilissima e lontanissima quindi concordo totalmente con te e così la questione diciamo libertà e limiti che poi vedi paradossalmente sembra come dire un tema che legge nella nostra conversazione perché lo stesso discorso dell'integrazione avere un paradigma di riferimento preso in maniera flessibile e modificabile continua a essere importante perché se non c'è una mappa si procede a caso e se procede a caso è facile che ti perdi non è che succede molto altro assolutamente poi il limite come sai benissimo questo lo vediamo anche in terapia la classica capacità di tollerare la frustrazione oggi poi abbiamo molte più conoscenze anche rispetto al ruolo della corteccia prefrontale quant'altro e marshmallow test experiment eccetera se io non ho non mi relaziono col limite piccolissima parentesi la richiudo subito anche col mistero la richiudo perché se no qua facciamo un terzo video togliamo un elemento fondamentale frustrazione limite è capire qual è il nostro vero desiderio capire chi siamo e cosa vogliamo e spesso non è un essere chi qualsiasi cosa voglio ma è scoprire cosa sono tutte queste cose qua hanno a che fare con io credo che è un grande arricchimento non tanto rimandabile di cui si devono nutrire molti dei nostri colleghi molti già lo fanno e non è che di integrare anche quello che è il ruolo del disagio esistenziale e se come si intersecano con la psicopatologia e c'è tanto da imparare anche dai tanatologi e da figure di questo genere perché poi hanno non è mortifero in realtà come dicevano i nostri antichi stoici in realtà è un carburante di vitalità il buon rapporto con limite e con e e oggi siamo in una cultura che non solo filosoficamente politicamente ci toglie limiti semplicemente perché siamo nevrotici consumatori che consumano meglio ecco ma adesso non apriamo anche questo totalmente d'accordo ti racconto una piccolissima cosa semplicemente erano alcuni anni fa e stavo lavorando alla costruzione di un manuale diagnostico e c'era una parte giustamente dedicata agli anziani non hai idea delle polemiche che ci furono poi mi feci da parte perché in questa follia culturale che è imperversa da una quarantina cinquantina d'anni ora non puoi dire è sbagliato dire che quando invecchi ci sono delle capacità che perdi si deboliscono ci senti meno la memoria come dire inizia avere delle difficoltà sulla memoria breve cosa è normale bisognava parlarne in termini di nuove opportunità che è una cosa che poi per carattere a me mi davo un'irritazione pazzesca anche perché io sono mio non ci vedo niente da lontano non è una cosa semplicemente ci vedo niente da lontano senza occhiali se ripenso ai miei nonni loro dicevano sono vecchio sono vecchia e non era un dramma quindi il dover far finta che è sempre tutto possibile che non c'è la perdita ma c'è una diversità io la trovo una stupidaggine ideologica che non aiuta assolutamente assolutamente concordo siamo arrivati ultima domanda allora grazie agli sviluppi della psicologia evoluzionistica dell'etologia comparata delle neuroscienze e molte altre discipline negli ultimi trent'anni siamo molto più consapevoli che essere specie homo sapiens non è neutro psicologicamente come per esempio a differenza tra essere scimpanze e bonomo ci sono delle tendenze di specie come piace dire a me come vedi il contributo di questa importante nuova mappa di conoscenze nello sviluppo della psicoterapia questa parte evoluzionistica è una parte di cui sono grandissimo appassionato e reputo sia completamente fondamentale poi c'è qualche differenza psicologica anche rilevante tra scimpanze e bonomo quindi in realtà anche lì non è proprio neutro dal punto di vista psicologico essere scimpanze o bonomo credo che sia fondamentale per tantissimi motivi ne cito alcuni la prima il rasoio di Ockham vedere come determinate reazioni emotive e comportamentali siano pressoché uguali negli uomini e in altri primati ti implica una richiesta fatta come dire con la massima forza di non inventarti spiegazioni complesse o complessissime per fenomeni semplici cose banali tenerezza verso qualcuno che sta male reazioni di lutto alla perdita di una persona cara vergogna quando ci si scopre quando si è scoperti nell'aver fatto qualcosa che non va orgoglio di fronte all'essere uscito a fare qualcosa sono reazioni che tu trovi nei cani, trovi nelle scimmie, trovi negli esseri umani quindi ti parlano di dimensioni di base dell'esistenza rispetto alle quali costruire complesse spiegazioni che partono da sofisticatissimi costrutti probabilmente superflui così come è assurdo pretendere che quelle cose possano scomparire da un essere umano 2. Nella comprensione delle motivazioni di base io penso che lo studio degli animali, lo studio della psicologia degli animali soprattutto dei primati e un approccio etologico come quello per esempio portato avanti da Bolvi nella comprensione della motivazione umana è fondamentale questo non vuol dire che una dimensione simbolica quelle esperienze non le assumono che un significato soggettivo specifico non le assumono ma quelle sono la base dell'esistenza di cui tener conto e non possono essere ridotte a cose specificamente umane che detto tra parentesi è sempre meno chiaro cosa sia specificamente umano rispetto ai primati superiori quindi sì credo che sia assolutamente fondamentale e seguo in quello che dicevi anche per comprendere quali sono i limiti e le cose su cui possiamo lavorare di più me ne viene in mente giusto uno perché è super studiato siamo una specie tribale quindi vuol dire anche che siamo capacissimi di comportamenti ultra cooperativi altruistici e reciproci con quelli che riteniamo membri di quello che noi riteniamo essere il nostro gruppo rispetto a gruppi altri in quanto specie tribale tendenzialmente non siamo propriamente aperti tutti gli studi sull'origine del pregiudizio che ha a che fare probabilmente con l'utilità di avere meccanismi che ti tenevano a distanza da persone che erano cresciute lontano da te e quindi portatori di malattie su cui il tuo sistema immunitario non poteva molto sono abbastanza note e quindi di sicuro un limite è una cosa su cui si dovrebbe lavorare molto è come imparare a riconoscere come parte del proprio gruppo molte più persone di quanto non venga fatto normalmente d'altra parte se ci pensi come dire la realtà della nostra vita politica attuale è una dimostrazione della potenza di questi meccanismi tribali è una difficoltà come dire a vivere gruppi diversi come sostanzialmente uguali o di pari dignità rispetto a te nella mia formazione soprattutto negli ultimi dieci anni alcuni autori come dire che si occupano prevalentemente di questi temi sono stati fondamentali te ne posso citare tre o quattro gli studi di Michael Tomasello soprattutto quelli sulla diciamo lo sviluppo della morale di Jonathan Haidt sempre sullo sviluppo della morale e tutto il filone di David Sloan Wilson sull'idea della selezione multilivello sono stati assolutamente molto importanti per la mia formazione e per diciamo le idee che oggi porto avanti quindi assolutamente molto molto importante mi fa molto piacere io lavoro questo tema di integrazione di una mappa più completa dello spettro della patologia che corrisponde anche con la possibile fioritura della psiche umana è la mia grande passione tanto che proprio ho messo questa domanda perché appena ho un collega che stimo con cui posso confrontarmi e questo dialogo tra di noi spero possa essere prezioso per chi ci ascolta io sto proprio scrivendo un libro che spero sia finito entro quest'anno inizio dell'anno prossimo dove integro i tre livelli il livello personale in cui si occupano la psicoterapia il livello di disagio esistenziale se vai a vedere anche la psicologia umanistica fino a quella transpersonale generalmente si occupano di questi due macro che poi hanno tanti livelli dentro quello che però abbiamo di conoscenze oggi negli ultimi vent'anni più o meno è che c'è una terza area di mezzo che è quella che essere specie homo sapiens non essendo sopravvissuto neandertal non possiamo confrontarci per capire ok diventa trasparente diventa cultura il tribalismo magari magari il tribalismo è trasversale con altri ominidi o è trasversale ma declinato in modo diverso vedi scimpanze questo ha una ricaduta poi a livello di psicoterapia che è poi il tema di questo dialogo è enorme io sono anche un insegnante ma per esempio portare a incrementare la metacognizione non al fatto che io ho quella sensibilità quel tema legato al rapporto con mio padre che agisco adesso nella relazione in modo automatico ma per esempio banalmente diventare consapevoli che in quanto homo sapiens tu, io, i nostri pazienti abbiamo tendenzialmente la mente che vaga che facciamo fatica assai nel qui e ora che siamo tribalisti potrei fare centinaia di esempi che siamo più predisposti e sensibili a ricordare gli eventi negativi o la perdita come diceva nel behavioral economics il compianto Kahneman eccetera ecco, tutto questo io mi sto confrontando con l'amico Marco del giudice bravissimo bravissimo si sta sviluppando una psicoterapia e una psichiatria sempre più informata è un campo molto fresco ma vedere anche come questo poi si declina rispetto anche a disagio assistenziale ecco secondo me c'è questa mappa completa è un'indicazione di rotta non è di certo non stiamo vedendo ancora l'orizzonte l'isola che si avvicina che dovevamo raggiungere però è un incremento della mappa secondo me fondamentale perché poi ti dà un altro spunto clinico tutto il recupero che c'è grazie a una nuova interpretazione luce di Genè della dissociazione del ruolo somatico dell'inconscio non rimosso procedurale implicito e del fatto che devi incominciare a integrare anche in ambito psicodinamico il ruolo del corpo certe pratiche per cominciare a creare un filo rosso tra le memorie implicite che puoi collegare alla parte verbalizzata più dialogica questo è assolutamente a che fare con il nostro essere mammiferi prima ancora che uno specifico individuo homo sapiens in quella famiglia con quella storia cosa ne pensi? Assolutamente sì secondo me guarda tanto lo dico io così mi prendo io le responsabilità ma secondo me questi studi aiutano anche a limitare il numero di stupidaggini che possono essere dette c'è una grandissima tendenza soprattutto nella sinistra libera l'americana intellettuale a sovrastimare grandemente secondo me il ruolo della cultura della società nella definizione di dimensioni di base dell'essere umani come se l'uomo fosse fondamentalmente una costruzione sociale e secondo me questo è troppo troppo ideologico e e poi ti porta il rischio enorme anche di negare delle cose che uno studio più attento ti rende evidenti cioè che la sostanziale continuità di moltissimi comportamenti almeno a partire dalla cultura greca e romana fino a oggi la trasversalità di certi comportamenti indipendentemente dal luogo in cui vive la cultura a cui appartieni è il fatto che molti di questi comportamenti molti di queste tendenze a reagire hanno una base animale un esempio secondo me abbastanza evidente di questo è il problema del femminicidio il ricorso alla spiegazione del patriarcalismo è una cosa che secondo me è come dire di una superficialità e di un pressappochismo totale perché basterebbe pensare che in tutti i primati i maschi sono tendenzialmente più violenti delle donne e se tu vedi dati quello che c'è stato è una sostanziale come dire non ci sono numeri in crescita rispetto a questo fenomeno nel corso del tempo almeno fin da quando abbiamo dei dati a disposizione c'è una sorta di allarme sociale giustificato per la gravità del fenomeno ma che non può ricorrere a spiegazioni che sono completamente prive di dati a supporto per esempio le culture in cui questa componente di differenza nella connotazione dei generi più ridotte si è ridotta nel corso del tempo come le culture scandinave presentano tassi di femminicidi più alti e in crescita quindi non è vero che la riduzione diciamo delle differenze culturalmente sancite fra uomini e donne che dovrebbe essere un buon indicatore dell'indebolirsi dell'ideologia patriarcale determini un decremento di questi fenomeni anzi l'effetto è paradosso è l'opposto così come si è visto che in quelle culture la riduzione delle differenziazioni socialmente stabilite tra ciò che è maschile e femminile ha portato in realtà un numero sempre recente di persone a scegliere lavori che sono conformi agli stereotipi di genere e non difformi la maggior violenza del maschio rispetto alla femmina è un dato animale umano non c'è bisogno di ricorrere a spiegazioni culturali se questo si sa secondo me si possono anche pensare strategie di intervento più intelligenti sì è un tema caldo molto complesso perché fare psicologia evoluzionistica dal punto di vista proprio della rigorosità scientifica dei risultati è complicatissimo sicuramente anche io intravedo un rischio di costruttivismo culturale che non c'entra niente con il costruttivismo quello alla varela o altri che sono super interessanti che tende a un relativismo un po' ideologico è tutta cultura non abbiamo un corpo non abbiamo una storia biologica bisogna di volta in volta per non cascare nell'eccesso posto caso specifico per caso specifico situazione culturale per situazione culturale perché poi c'è una continua interazione tra tutti i livelli valutare ma sono d'accordo con te che bisogna un po' sospettare quando ci sono quelle interpretazioni che la buttano tutto sul culturale esatto esatto bene Francesco per me è stato molto interessante anche per me magari ci sarà l'occasione di scendere più in verticale tra uno dei vari spunti che abbiamo toccato ti ringrazio ancora e alla prossima alla prossima buon lavoro per me è stato Grazie a tutti.